ciao a tutti bentornati in un nuovo video sono sabrina pietrangeli e sono una life coach in questo video come promesso vi mostrerò tutti i regali che ho ricevuto per il mio compleanno sarebbe un video esclusivamente personale se non fosse per il fatto che la maggior parte di questi regali sono dei libri sono libri tra l'altro che erano presenti in una mia wish list specifica per il compleanno che avevo fatto su amazon e molti dei miei amici ma anche molte follower che mi seguono con affetto da tantissimi anni e sanno quali sono i miei interessi e su cosa sto studiando in questo tempo hanno deciso di regalarmeli per cui ne ho ricevuti tantissimi di quella lista a cui tenevo veramente tanto quindi io direi di cominciare da ciò che non è libro in modo tale poi da fare tutta la carrellata di titoli che ho ricevuto a leggervi qualche piccola recensione l'indice e cose simili così da condividere insieme anche questa comune passione per la carta io vorrei partire ovviamente dal regalo che mi ha fatto il mio compagno è un regalo che per noi ha un certo significato nel senso che lo avevamo visto più di un anno fa in una libreria a genova e ci era piaciuto tantissimo aveva un certo tipo di costo era rimasto un po nel nostro cuore e per questa occasione ha deciso di comprarmelo di regalarmelo praticamente è il cofanetto di tutte le puntate di tutte le quattro stagioni della serie televisiva la casa nella prateria chi è grandicello come noi la ricorderà famiglia ingles ambientato un pochino nel vecchio west diciamo così non lo saprei neanche dire quello che era l'epoca ma vi posso dire che quando avevo 9 10 11 anni era la serie che tutti i pomeriggi guardavo in tv dopo i compiti e mi appassionavo alla storia di questa famiglia una famiglia intrisa di valori come il sacrificio il lavoro la famiglia la comunità intesa proprio come luogo come paesino in cui vivere tutti insieme in cui sostenersi e aiutarsi rivedere queste puntate e fare proprio un bagno nei valori di una volta cose che oggi magari non non vediamo più con dolore no è qualcosa proprio scevro dall'egoismo dalla solitudine dall ego è un modo di vivere proprio gli uni per gli altri a sentirsi uno ecco la casa nella prateria è piena di questi valori e la mia segreta speranza è che anche le mie figlie possano avere il desiderio quando vengono qui di vederne qualche puntata insieme a noi noi intanto abbiamo cominciato a vedere le prime tre puntate considerate che qui ci sono ben 48 dvd e ogni dvd contiene quattro episodi per cui 48 per quattro sono circa 192 episodi da vedere tutti quanti in sequenza nell'ordine giusto per rivivere un po' tutte quante le stagioni questo devo dire è stato un bellissimo regalo anche significativo considerando che l'epoca il tempo in cui vedevamo questa serie che era intorno al 1980 era anche il tempo in cui e luciano eravamo nella stessa classe di scuola media quindi è anche bello condividere questa cosa insieme quando da ragazzini in case separate ma si guardavano questi stessi episodi un altro regalo molto bello che ricevuto è stato da mia figlia priscilla e dal suo fidanzato è un orologio un orologio della parfum che ancora non ho indossato perché debbo accorciare il cinturino è bellissimo molto madre perlaceo dentro su rosa e oro è veramente molto fine molto elegante sinceramente non vedo l'ora di indossarlo è stato proprio un pensiero stupendo mia figlia vivian anche lei diciamo è andata sui bijoux come profonda lei sempre un bijoux con un suo significato praticamente è un anellino di argento però bagnato in oro oro rosa e praticamente rappresenta un cuore ma proprio non so se riuscite a vederlo vediamo se riesco a metterlo a fuoco eccolo qua è proprio il disegno di un cuore con tutte le sue vene con tutti i suoi le sue valvole tutto quanto e lei lo ha comprato praticamente doppio perché uno era per me uno era per lei quindi diciamo mi ha voluto comunicare proprio che siamo parte di uno stesso cuore l'ho apprezzato tantissimo lei ha sempre questi pensieri così teneri e profondi grazie sempre per parlare di figli non mi riferisco a jonah stavolta mi riferisco sempre a vivian ma anche a irene alla mia figlioccia la figlia di luciano del mio compagno che ieri sono andate insieme a fare shopping a fare bisbocce al centro commerciale e luciano aveva dato loro dei soldini a entrambe per così comprarsi qualcosa che piaceva a loro e anche se hanno pensato alle loro cosine hanno messo insieme anche qualche soldino per regalarmi una maglietta di questo color verde un pistacchio pastello un pochino spento io lo chiamerei verde muffa ma sembrerebbe un'offesa in realtà il verde muffa è un colore bellissimo che tra l'altro a me piace veramente tanto quindi ieri le ho viste tornare oltre che con i loro costumi con lo zainetto con le cosine che si erano comprate anche con una maglia per me con l'aria da bambine che hanno marinato la scuola che erano felicissime di farmi questo regalo che al di fuori del mio compleanno perché quattro giorni dopo quindi l'ho veramente apprezzato come una cosa bellissima perché si sono comportate proprio da sorelle e da figlie le ringrazio con tutto il cuore proprio un altro bel regalo mi è arrivato dalla segretaria di luciano da maria grazia questo è un calendarietto da scrivania della thun quindi è porcellana praticamente è bellissimo perché ci sono dentro questi pezzettini di legno che potete cambiare adesso è fermo al 28 maggio ovviamente oggi dovrò metterlo al giorno giusto però ogni giorno si cambiano i numerini ogni mese si cambia il mese e abbiamo sempre un datario davanti soprattutto quando io lavoro alla mia scrivania poi ho ricevuto anche altri regali che non ho sotto mano in questo momento una mia ex cliente diventata poi amica è venuta alla festa con suo marito e mi ha regalato un bellissimo profumo dell'erbolario al tiare che è una profumazione fortissima un misto fra tuberosa vaniglia e molto molto intenso con la crema per il corpo uguale oggi tra l'altro l'ho indossato devo dire che questi profumi così caldi così dolci intensi mi stanno piacendo tantissimo e un altro bel regalo è stato un mazzo di fiori stupendi di peonie che mi è arrivato addirittura su commissione della svizzera da una mia cliente che ha utilizzato ovviamente uno di questi come si dice di questi vabbè fioristi internazionali che consegnano ovunque e quindi è arrivato in officina da luciano questo splendido mazzo che all'inizio è stato un po' un motivo di divertimento perché non si sapeva chi lo aveva mandato non c'erano biglietti dentro per cui dai a giocare con luciano è stato l'amante è stato questo è stato quell'altro una cosa divertentissima poi alla fine il giorno dopo si è scoperto sono stata io non ti hanno messo il biglietto è stata tutta da ridere poi sempre da una mia cliente affettuosa amica oramai ho ricevuto questo regalo che mi ha colpito tantissimo perché è molto molto prezioso sono dei dischi originali e vintage dei beatles e di paul mccartney quando i beatles si erano già sciolti e quindi lui aveva fondato questo gruppo con i wings sono diversi sono più d'uno li ho ascoltati già tutti sono bellissimi li vedete un po' acciaccati perché sono proprio originali dell'epoca quindi preziosissimi e le canzoni stupende veramente suonati sul giradischi con un buon impianto vi rendete proprio conto di che cosa era la musica all'epoca grazie grazie da morire ho ricevuto una lampada di sale da mia cugina patrizia allora io di lampada di sale come sapete ne avevo già una questa è più grande della mia e pesa tantissimo quindi sono stracontenta perché adesso ne ho una in salotto una in camera da letto tra l'altro questo è molto particolare perché come vedete è scura sopra poi ha una striscia laterale chiara ed è scura sotto quando l'accendete il disegno è veramente bellissimo quindi sono contenta di avere un altro di questi oggetti meravigliosi che oltre ad essere bellissimi dal punto di vista del design hanno anche una grande utilità perché sono proprio oggetti che depurano l'aria prevengono le allergie abbassano la negatività di una stanza oltre a essere molto salubri e poi ho ricevuto questa meraviglia così come la vedete col vasino in vetro pallina rosa è una è un albero proprio di orchidee credo sia un orchidee sì è una famiglia di orchidee guardate che bello ci sono proprio i fusti belli cicciottosi sto avendone una cura enorme sono terrorizzata l'idea di non farla vivere come dovrebbe perché è veramente bellissima questa me l'hanno regalata priscilla e fabiola priscilla caronti e fabiola due mie carissime amiche poi il gruppo di amici ex compagni di scuola della sezione c della scuola media dove andavamo io e luciano hanno messo insieme le loro forze e mi hanno regalato un buono di amazon ovviamente per cosa potevo spendere io il buono di amazon indovinato per i libri l'unica cosa è che questi libri arriveranno proprio oggi e quindi non ve li posso far vedere adesso vi posso però far vedere gli altri libri ricevuti sempre per il mio compleanno cioè quelli che mi sono stati inviati grazie alla wishlist di amazon per il mio compleanno appunto dalle mie follower e anche dal fidanzato di una delle mie figlie adesso non ricordo chi ha regalato cosa tranne per questo qui perché mi è rimasto impresso che era il più piccolino come forma e anche quello che aveva a che fare con jung e con l'alchimia allora dovete sapere che l'alchimia è una delle degli argomenti che mi stanno acchiappando tantissimo in questo periodo proprio ieri che era domenica ho passato l'intera giornata ad ascoltare vedere un webinar in diretta con giorgia sitta che è una psicologa che ricercatrice anche esperta in alchimia trasformativa con la quale intendo fare un certo tipo di percorso ecco l'alchimia è qualcosa che mi sta legando tantissimo sia dal punto di vista spirituale e di interpretazione della della vita delle vite in generale sia perché è molto legata anche alla psicologia di jung e anche alla divina commedia di dante per cui questa triade jung dante e alchimia è praticamente la triade sulla quale io sto veramente ricercando e studiando già da qualche settimana jung e la metafora viva dell'alchimia è appunto un libro che ricollega un po tutte queste cose qui jung considera l'opus alchemico una metafora del processo di individuazione di quel dinamismo vitale che è presente in ogni essere umano e che tende al suo più completo e compiuto sviluppo psicofisico sebbene per gli psicologi analisti jungiani la metafora alchemica sia un riferimento teorico clinico essenziale per comprendere le dinamiche emotive dei pazienti in analisi e uno strumento pratico per orientarsi nei diversi snodi del processo di individuazione ai non addetti ai lavori il rimando ad un sapere così lontano e desueto può risultare di difficile comprensione di scarsa utilità clinica ovviamente per me che già navigo un pochino nel mare dell'alchimia invece il concetto è molto molto chiaro jung e la metafora viva dell'alchimia si propone di illustrare l'attualità della metafora alchemica e delle sue immagini di trasformazione descrivendo come essa rappresenti anche oggi una guida preziosa per orientarsi nelle oscurità psichiche verso la presa di coscienza dell'energetica profonda fino all' integrazione di quei vissuti di rigenerazione del corpo mente che provengono dal sé e dallo spirito di vita che ci abita quando impariamo a guardare in trasparenza la metafora alchemica comprendendo nelle indicazioni prospettiche l'opera al nero l'opera al bianco e l'opera rosso diventa un' esperienza viva che riguarda personalmente ognuno di noi scopriamo infatti che la prima materia da trasformare in oro filosofico siamo noi stessi verso il pieno compimento della nostra esistenza il libro è un affresco scritto a più mani che guida il lettore in questo percorso di conoscenza di trasformazione e di rinnovamento vitale che da sempre ha affascinato le migliorimenti in tutti i tempi e in tutte le culture le culture simona massa ope psicologa analista junghiana arrico rossi psicologo analista junghiano e marta tibaldi lo stesso praticamente sono tutti didatti e supervisori di varie associazioni italiane tipo l'aipa lo iap eccetera eccetera allora l'alchimia l'alchimia all'epoca quando fu inventata in antichità dagli alchimisti per l'appunto era proprio la ricerca della pietra filosofale e la assurda ricerca nel trasformare il piombo in oro no sembra un'utopia di fatto quando viene applicata alla vita delle persone significa proprio quel lunghissimo cammino e anche doloroso a volte di trasformazione dalla persona grezza che siamo quella che vive un po nell'inconsapevolezza che viene trasportata dalle dalle emozioni dagli eventi senza avere consapevolezza di quanto sia in realtà in grado di trasformare la propria vita il proprio interiore le proprie i propri eventi e quindi in questo senso richiama anche alla commedia dantesca nei vari passaggi di inferno purgatorio e paradiso stato infernale quello in cui siamo presi dalle nostre emozioni in cui crediamo di non avere il controllo su niente lo stato del purgatorio quando cominciamo a prendere consapevolezza del fatto che abbiamo piena responsabilità della nostra vita e dobbiamo assumerci piena responsabilità del nostro stato delle nostre azioni per arrivare poi al paradiso che è proprio il godersi lo stato di presenza qui e ora e l'aver trasformato le nostre ferite averle trasmutate in talenti in potenziale ecco questo è un cammino che io considero reale concreto e fattibile nella mia vita e nell'altrui vita per cui è uno strumento per me essenziale anche da utilizzare con le mie clienti in ambito di coaching perché veramente gli esercizi e la metodica che viene proposta anche all'interno del cammino di trasformazione di trasmutazione alchemica è qualcosa che chiunque può fare con grandissima presenza quindi questi libri mi stanno aiutando proprio a sviluppare una metodica di coaching molto molto personale bellissimo questo libro altro libro che ha a che fare con l'alchimia meno di insegnamento più di divagazione sono liberi pensieri di alchimia trasformativa per cui ci sono simbolismi no come la simbologia del serpente che ti spiegano chiaramente che cosa significa il nostro corpo è il vestito pensa alle opere non ai frutti la strutturazione l'anima l'intuizione siamo energia osserva le tue emozioni la ricchezza è uno stato interiore quindi ci sono delle riflessioni che aiutano proprio ad entrare nel vivo di questo modo di pensare non possiamo accorgerci che stiamo dormendo finché non decidiamo di voler cambiare nella nostra vita quelle cose che da tempo ci opprimono allora e solo allora potrà avere inizio avere inizio per noi la fase del risveglio il vero guerriero non combatte mai contro la vita non vede in essa nessun pericolo lui sa benissimo che là fuori non c'è nessun nemico che vuole fargli del male non combatte perché ha in sé la consapevolezza che ciò che gli sta accadendo l'ha creato lui o meglio la sua anima la quale proprio attraverso la prova che sta affrontando sarà in grado di avanzare sul cammino dell'evoluzione comprendere ciò ci dona una grande libertà è qualche cosa che ci permette di divenire uomini liberi ci permette di accettare il mondo e attraverso l'accettazione poterlo poi trasformare comprendere questo ci libera dalla schiavitù che per secoli ci ha tenuto prigionieri l'acqua ha un grande valore esoterico è la sorgente la matrice che con il liquido amniotico e le acque primordiali preserva e da inizio alla vita il fuoco attraverso il crogiolo dell'alchimista origina la trasformazione del piombo in oro è l'agente di relazione naturale tra il microcosmo e il crocosmo poiché genera trasformazioni e purifica le cose elevandole ad un livello di perfezione maggiore in questo volume sono racchiusi dei liberi pensieri di alchimia trasformativa di acqua e di fuoco usalo leggilo d'un fiato oppure aprilo a caso durante la giornata o se hai un momento di particolare necessità e ascoltalo lui saprà parlarti di acqua e di fuoco di trasformazione e di cambiamento luisa passa fiume che è una master di reiki alchimista e praticante del lavoro su di sé compie da anni ricerche spirituali ed esoteriche e svolge seminari di risveglio della coscienza divulga il suo pensiero attraverso i social con la consapevolezza che puoi trasmettere agli altri solo ciò che sei e che se usi la razionalità non potrai mai andare oltre al punto in cui ti trovi trasmette agli altri ciò che è questa è la cosa più bella e più vera che si può donare agli altri quando sei incanalata in un percorso non solo che aiuta le persone che vuole sostenere le persone ma anche dove tu ti esponi attraverso i social e mostri chi sei veramente se veramente questo è il lavoro che vuoi fare facciamo un esperimento adesso pensate ad una cosa che vi sta a cuore in questo momento sulla quale vorreste delle riflessioni e delle risposte non in senso divinatorio ma proprio in un senso che ascoltando determinate parole possiate incanalarvi in un dialogo interiore che vi porti a delle soluzioni o a delle idee nuove che prima non vi erano venute ci avete pensato qual è la cosa che vi tedia in questo momento su cui vorreste essere illuminati vorreste un suggerimento io apro a caso è apro a caso tutto ciò che mi accade è il titolo tutto ciò che mi accade è il frutto del mio potere creativo sono io infatti che a seconda dei pensieri che ho fatto sino ad ora sono stato l'artefice di ciò che mi sta accadendo comprendere questo comprendere cioè prendere dentro di sé fare proprio è di vitale importanza credo che sia abbastanza intuitivo per tutti ecco perché è determinante il lavoro su di sé che prevede tra le altre cose essere consapevoli dei propri pensieri perché di fatto noi non siamo quasi mai consapevoli dei pensieri che la nostra mente partorisce in ogni istante incessantemente per tutta la vita ecco perché questa dovrebbe essere una priorità per l'essere umano che desidera evolvere osservare ciò che pensiamo sorprenderci nel senso di accorgerci di ciò che la nostra mente pensa in questo momento è il punto di partenza per un lavoro su di sé nel momento in cui faremo questo ci renderemo conto ben presto che i pensieri che affollano la nostra testa sono quasi sempre pensieri di paura mancanza negazione eccetera correggendo il nostro modo di pensare sostituendo in maniera consapevole i pensieri meccanici che facciamo con altri voluti da noi e volti al positivo produrrà davvero un cambiamento nella nostra vita che diverrà più gioiosa e si aprirà all'abbondanza in pratica inizieremo così a svegliarci ecco a me questo succede ultimamente molto spesso mi sono resa conto che alcune emozioni anche negative che proviamo pensieri che ci tirano giù appunto le emozioni che ci tirano giù sono determinate da pensieri che poco prima involontariamente spesso neanche accorgendo ce ne abbiamo fatto e quando mi rendo conto di star formulando un pensiero che in qualche modo esprime critica biasimo o giudizio nei miei confronti nei confronti di una cosa che ho compiuto o nei confronti di un'altra persona modifico quel pensiero mi interrompo e dico proprio nella mia mente a volte persino a voce alta no rettifico in realtà penso questo e pronuncio o pronuncio mentalmente la parola la frase in senso positivo credetemi che vi cambia proprio l'assetto mentale e di conseguenza anche le emozioni che sperimentate quelle spontanee involontarie che arrivano durante il giorno lui sella passa fiume dall'acqua al fuoco liberi pensieri di alchimia trasformativa anche questo un bellissimo pensiero di una di voi che mi state seguendo che ringrazio infinitamente il potere di dante per proseguire il discorso della divina commedia eccetera 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 questo me l'ha regalato la mia serena allora un cammino di illuminazione per una vita piena e felice titolo ovviamente scelto da me gentilmente regalato da serena sentite che bello che a questo libro l'inferno di dante rappresenta il catalogo dei nostri disagi e delle nostre paure il purgatorio la strada per liberarsene il paradiso il passaggio a una vita pienamente realizzata qui spiega molto meglio l'importanza della divina commedia proprio come metafora della vita non è soltanto un'opera letteraria dante era un alchimista quindi era anche esoterista la divina commedia non è solo il capolavoro senza tempo che tutti conosciamo e che illumina l'umanità da sette secoli influenzando generazioni di intellettuali studenti può diventare un'esperienza pratica per rispondere alle nostre esigenze più profonde superare malessere e difficoltà trovare una serenità vera e scoprire la pienezza del proprio potenziale ansia frustrazione rimpianti disagi rabbia paure sono trappoli invalidanti in cui è fin troppo facile incappare nel corso del cammin di nostra vita capita a tutti di smarrire la diritta via affrontato con i potenti strumenti della psicosintesi il viaggio metaforico di dante che nell'inferno esamina l'intero spettro degli stati negativi dell'essere ci guida in un concreto percorso di trasformazione per sperimentare una realtà più profonda e raggiungere la realizzazione di sé ben al di là delle illusorie promesse di una psicologia useggetta il più grande poema di tutti i tempi rappresenta un cammino verso una vita più piena e felice dante diceva che c'erano tre modi diversi di poter leggere la sua divina commedia il primo modo il più semplice quello che era immediato per tutti e che è stato il modo principale che ci ha portati fino ad oggi con questa opera era il modo letterario no quindi tutti concentrati sulla meraviglia delle parole che dante usava e sulla interpretare con le sue frasi quello che voleva realmente dire poi c'era un altro modo che era un pochino più spirituale per arrivare poi al modo quello alchemico proprio quello esoterico che sarebbe sovraggiunto più di 600 anni dopo ma questo lui già lo sapeva e all'epoca non poteva esprimerlo in modo così diretto perché immaginate non era proprio un'epoca in cui si potesse parlare di alchimia o di esoterismo bellissimo questo libro che non vedo ovviamente l'ora di leggere tra l'altro bellissima anche la grafica interna il font che hanno utilizzato veramente molto elegante molto chiaro molto bello proprio da leggere altro libro questo me lo ricordo me l'ha regalato Enrico mio carissimo amico una persona con cui condivido molto del mio pensiero spirituale di Italo Pentimalli la tua mente può tutto qui si parla di cervello quantico ok scopri il codice segreto della mente e sprigiona le tue risorse col potere del cervello quantico c'è un modo diverso di vedere le cose qui ci sono delle recensioni 5 stelle bellissimo libro per approfondire o meglio continuare a capire come funziona la nostra mente e la relativa programmazione per l'ottenimento dei risultati concreti nella propria vita ricco di utili esempi e spiegazioni pratico e profondo guida il lettore nel percorso di crescita personale con affetto e simpatia lo consiglio a tutti è efficace e contiene esercizi che aiutano a metterlo in pratica che si tratti di trasformare un'idea in un progetto di vita di raggiungere un importante risultato imprenditoriale o di ottenere la serenità che da sempre rincorri poco importa tutto dipende dalla tua mente e quindi prima di ogni altra cosa devi capire come funziona è questo il cuore del libro di Italo Pentimalli uno strumento che ti consente di diventare finalmente padrone dei meccanismi inconsci che influenzano le tue scelte le tue idee i tuoi risultati e accedere così al codice segreto della tua mente unendo le scoperte più recenti nell'ambito delle neuroscienze alla rilettura di antichi precetti delle filosofie orientali la tua mente può tutto presenta un percorso suddiviso in 13 livelli un metodo semplice ma efficace che in soli tre minuti al giorno ti consentirà di scardinare i vecchi programmi mentali disfunzionali e di attivare il tuo cervello quantico facendo emergere risorse e potenzialità che sono già dentro di te senza che tu ne sia consapevole quindi un bellissimo testo anche questo qui poi cos'altro ah questo è un librone allora questo me l'ha regalato una mia cliente che è anche il mio avvocato ci siamo siamo clienti a vicenda l'una dell'altra trattato di alchimia delle emozioni allora stavo cercando su amazon dei testi relativi all'alchimia che come sapete come vi ho già detto poco fa è uno degli argomenti clou per me in questo momento l'alchimia diciamo va capita come base quindi ci voleva un manuale che mi spiegasse cosa fosse realmente l'alchimia perché tutti questi libri che vi sto facendo facendo vedere che parlano di trasformazione alchemica alchimia trasformativa eccetera parlano dei modi in cui utilizzare l'alchimia ma non mi spiegavano realmente cosa fosse l'alchimia e quali fossero i passaggi per fare il percorso alchemico no quindi il nigredo l'albedo eccetera eccetera cosa rappresentano questi nomi strani no qual è il processo vero dell'alchimia qui c'è proprio l'inizio cioè c'è tutto si parla è l'abc dell'alchimista per cui le ferite emozionali che vi posso dire cerco l'indice perché altrimenti sfogliamo in continuazione allora prima sezione seconda sezione terza sezione nigredo rubedo albedo nigredo la genesi delle ferite emozionali quindi ferite che noi ci siamo scelti prima di incarnarci che ci hanno magari dato i nostri genitori che abbiamo scelto prima di incarnarci quindi le ferite un cammino che ci riguarda tutti considerate che il corso che ho fatto ieri otto ore sei ore di seminario web era proprio incentrato sulle ferite del bambino interiore e sull'alchimia e sui talenti anche no quindi quattro elementi le forze della vita come interviene lo zodiaco in questo gioco meraviglioso della nostra vita quindi scegliamo anche il nostro segno zodiacale cioè scegliamo il tipo di energia di cui dotarci insieme ai talenti per poter navigare nel cammino di questa incarnazione nel modo migliore la fase rubedo quella della guarigione delle ferite emozionali qui siamo chiaramente nella fase del purgatorio quindi la ferita una profonda separazione l'alchimia delle emozioni le ferite come agenti trasformanti messaggeri della vita la ferita il talento le fasi di guarigione della ferita e poi la terza fase che è l'albedo che parla ovviamente a questo punto è il paradiso perché è proprio il risveglio dei talenti grazie alle ferite emozionali no quindi spiega bene anche il tipo di ferite quella da rifiuto da abbandono da tradimento da ingiustizia da umiliazione e poi parla anche di una sesta e di una settima ferita del talento e delle sette chiavi della realizzazione interiore è veramente un manuale grande anche tra l'altro un manuale di studio dell'alchimia sono veramente innamorata di questo libro che tra l'altro insomma era anche impegnativo dal punto di vista del costo da dove provengono le maschere che tutti i giorni indossiamo recitando la nostra parte nella vita perché subiamo ancora così profondamente intensamente i lati oscuri della nostra personalità come possiamo trasmutare le nostre ferite derivanti dei traumi vissuti in forze propulsive o in talenti qual è l'origine delle nostre emozioni e perché è tanto importante viverle senza censurarle questo trattato propone una lucida e moderna visione delle antiche teorie dell'arte alchemica affrontando gli studi riguardanti la possibilità per ogni essere umano di trasformare le proprie ferite emozionali in talenti ogni essere vivente ha diritto alla felicità e realizzare il suo disegno ma per giungere a questo traguardo è necessario riconoscere trasformare e trasmutare i blocchi emozionali cioè le ferite che sono da ostacolo alla realizzazione personale perché perché le ferite vanno a incidere direttamente sulla personalità e la personalità purtroppo cioè l'ego l'io ha il potere di bloccare i nostri talenti attraverso biasimo attraverso critiche attraverso paura del giudizio e nascondersi quindi non manifestarsi la cosa più grave che può accaderci nel corso di una incarnazione è quella proprio di non manifestare la nostra anima penso che sia l'inferno più grande le ferite emozionali non vanno combattute ma comprese integrate nella personalità dell'essere e vissute come un impulso per generare il talento che da ogni ferita naturalmente scaturisce ogni ferita nasconde un talento dalla fisica atomica delle tre sostanze e dei quattro elementi fino alla meccanica quantistica viene per la prima volta svelata in un testo scritto la particolare visione degli antichi alchimisti custodita per secoli in cerchie ristrette di uomini di sapere un testo unico dal punto di vista tanto scusate dal punto di vista della sua ampia e scientifica trattazione di un argomento tanto complesso quanto importante quale quello dell'evoluzione dell'essere umano imbrigliato dalle sue ferite emotive nel suo predestino cioè prima di incarnarsi è bellissimo cioè questo è veramente un libro studio da mettersi lì studiare ripassare sottolineare manca l'interrogazione ma quella me la faccio da sola poi ci sarebbero in realtà altri libri che vorrei farvi vedere ma cominciano a diventare troppi quindi vi rimando ad un secondo video dove magari vi faccio vedere questi più i tre che mi arriveranno oggi vi faccio vedere solo l'ultimo in autoregalo che mi sono fatta l'altro giorno come sapete amo moltissimo rino gaetano non solo per l'uomo il ragazzo il cantautore che è stato ovviamente per le sue canzoni per il suo timbro di voce che trovo scansonato e meraviglioso ma anche perché rino viveva a montesacro a due passi della mia casa d'infanzia in un'epoca generazionale un pochino più indietro rispetto alla mia perché lui se mi ricordo bene aveva dieci anni di più chiaramente purtroppo è morto nell'81 quando io ero in prima media con luciano tra l'altro adoriamo entrambi sia il personaggio di rino che ovviamente le sue canzoni e questo libro è interessantissimo perché è una raccolta un po documentaria no di quello che è la sua vita quindi fotografie pezzi di canzoni aneddoti racconti anche diciamo da parte di altri come de gregori venditti che hanno fatto scorribbande con lui la sera per le strade di via noventana di piazza monte baldo che dove era la mia scuola quindi i luoghi della mia infanzia rivissuti in questo bellissimo libro che ho acquistato l'altro giorno alla feltrinelli e che non vedo l'ora di divorare io chiuderei qui ragazze perché altrimenti si rischia di farla troppo lunga sono 32 minuti basta quindi vi rimando ad un prossimo video dove vi faccio vedere altri libri sempre in tema dante ok tutti all'inferno alla ricerca di beatrice non ve ne parlo adesso ho anche libri comprati all'usato a 3 euro libri di crescita personale e ho addirittura una chicca che conservo tipo reliquia di un libro del 1940 che parla dei grandi iniziati tra cui krishna mosè gesù eccetera eccetera un libro antichissimo e prezioso che voglio mostrarvi con calma insieme ai tre nuovi che erano oggi perché amazon me l'ha detto e io ci credo va bene allora grazie per aver assistito a questo video io chiedo umilmente perdono sin da ora se ho dimenticato magari un regalo perché veramente le cose sono state tante ne sono girate tante e la mia paura è di aver dimenticato qualcosa mi guardo addosso perché molte delle cose che mi regalano indosso ma mi sembra mi sembra di non aver dimenticato nulla chiedo perdono se l'ho fatto e segnalatemelo magari così lo mostro nel prossimo video grazie per la vostra attenzione spero di avervi ispirate con qualcuno di questi libri l'alchimia è cosa nuova anche per me quello che sapevo ve l'ho passato ma c'è molto molto di più nel corso di ieri si sono aperti milioni di vasi di pandora adesso si tratta di sedersi alla scrivania nei ritagli di tempo tra una sessione e l'altra di studiare 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 non smettete mai di fare ricerca su di voi sulla vita sul senso della vita perché questo è veramente il succo di tutto ed è motivo di gioia per alzarvi la mattina tipo calcio nel sedere e schizzare a fare le cose che vi piace fare fate quello che desiderate fare quello che amate fare e come diceva qualcuno non lavorerete un solo giorno nella vita grazie per la vostra attenzione ci vediamo presto ciao sabrina Noi voglio te, sono da mia Che parola! Ma capito? Ma veramente cringe! Non lo so! Ma veramente cringe! Questa è una pubblicità! È il change? È cringe! Ma è molto cringe! Ma non lo so! Ma veramente cringe! Mi vuoi dire? In scanza alla casa e pezzu! si Sì. Sì. Gli miei. Ma quanto dura, sbagliosa! Sì, è l'unico, è l'unico. Sì, è l'unico. Sì, è l'unico. Sì, è unico. Sì, è l'unico.